Oroscopo del giorno, domenica 21 novembre 2021 Ariete Amore, purtroppo la settimana non finirà nel migliore dei modi, perché Venere continuerà ad essere sfavorevole. Per questo motivo potrebbero esserci dei problemi nella relazione oppure in una nuova conoscenza. Lavoro, tutto tranquillo per il fronte lavorativo, visto che domenica in molti potrebbero concedersi un momento di relax. Toro Amore, domenica serena, senza grossi intoppi. Questa giornata di novembre dovrebbe essere tranquilla, ma difficilmente arriveranno delle grosse novità in coppia. E lo stesso si potrà dire per chi è single e sta facendo delle nuove conoscenze. Lavoro Problemi sul lavoro per chi lavora anche durante il weekend. Dovrete fare parecchia attenzione. Gemelli Amore Belle stelle per questa giornata del mese. Le emozioni speciali infatti non mancheranno. Benissimo per le coppie che vogliono quel qualcosa in più. Pure i single avranno una domenica ricca. Potrebbero esserci incontri. Lavoro Se ci saranno delle nuove opportunità dovrete mettere da parte le paure e cercare di impegnarvi fino in fondo. Cancro Amore Il pianeta dell'amore non sarà ancora favorevole e dovrete cercare di affrontare una domenica un po' complicata. Con i sentimenti non avrete vita facile. Sarà una domenica di discussioni per i rapporti personali. Lavoro Meglio per il lavoro per questa domenica. Nonostante per molti sia un giorno libero potrebbero arrivare news. Leone Amore Bellissima questa giornata. Se avete un partner e siete innamorati potrete godere di momenti spensierati e di emozioni. Anche per i single sarà una domenica incoraggiante sotto il profilo sentimentale. Qualche nuovo incontro. Lavoro Non ci saranno tanti impegni ed è per questo motivo che vi sentirete un po' più rilassati. Vergine Amore Attenzione a questa nuova giornata del mese di novembre. Le stelle saranno nervose e voi ancora di più. Purtroppo potrebbero esserci delle discussioni da dover affrontare e non è detto che sia semplice superare dei momenti no. Lavoro Un po' di tensioni si potrebbero respirare anche in ufficio. Occhio agli istinti nei rapporti con i colleghi. Bilancia Amore Così come ieri anche questa giornata sarà più positiva. Qualcuno potrebbe chiarire con una persona vicina e sicuramente ci sarà una maggiore tranquillità. Il recupero è appena iniziato. Bisogna vedere come proseguirà. Lavoro E più serena sarà pure la giornata professionale di tutti voi che lavorate anche durante i fine settimana. Scorpione Amore Questa non sarà una giornata di grosse novità, passi in avanti ed emozioni troppo grandi. Comunque non dovreste avere anche dei problemi importanti nella relazione oppure in un nuovo rapporto se siete single. Lavoro Forse non sarete molto tranquilli ma questo non significa che avrete a che fare con dei disagi di lavoro. Tagittario Amore Questa domenica di novembre dovrebbe essere piuttosto complicata e difficile. Con la vostra dolce metà potrebbero esserci litigi e discussioni da dover affrontare. Pure per i single potrebbe essere un giorno movimentato. Lavoro Bene Giove che vi dovrebbe aiutare sul lavoro. Aspettatevi qualche buon risultato, delle gratificazioni. Capricorno Amore Aspettatevi una giornata tranquilla dal punto di vista sentimentale. Venere sarà in buon aspetto anche se non ci saranno dei passi in avanti molto importanti. Mai dire mai però perché qualcosa potrebbe sempre accadere. Lavoro Tutto bene per la professione in questa domenica di novembre. Poche novità, qualcuno potrà concedersi del relax. Acquario Amore La luna di questa giornata sarà molto favorevole. L'umore sarà quindi molto buono. Tutto andrà per il verso giusto anche con i sentimenti e con i rapporti. Un momento piacevole con le persone che avete vicine. Lavoro Molto bene anche sul posto di lavoro. Pure le energie saranno abbastanza interessanti per oggi. Pesci Amore Questa giornata potrebbe essere difficile perché vi sentirete stanchi e nervosi. Problemi quindi nella relazione sentimentale e in tutti quei primi approcci che stanno iniziando per i quali solitari. Lavoro Il nervosismo dovrebbe farsi sentire anche per gli impegni e rapporti di tipo professionale. Fate attenzione. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. E' piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per il risultato.